Gustave Le Bon, Psicologia delle folle, 1895, Capitolo 3 e Capitolo 4 Cosa sta accadendo alle folle? In questi capitoli vedremo come i sentimenti delle folle siano in realtà dei sentimenti religiosi, che non ha a che fare prettamente con le religioni. Le folle possono adorare un dio, una divinità, un eroe, un'idea, e vengono suggestionate da grandi impressioni, devono essere impressionate. Nel momento in cui vengono impressionate si avvia il sentimento delle folle che li può condurre a qualsiasi cosa. E soprattutto le idee che gli vengono suggerite. All'alto manovra i sentimenti delle folle. Buon ascolto. Capitolo 3 Idee, ragionamenti e immaginazioni delle folle 1. Le idee delle folle Studiando in un'opera precedente la parte che hanno le idee sulle evoluzioni dei popoli, abbiamo dimostrato che ogni civiltà deriva da un piccolo numero di idee fondamentali che raramente si rinnovano. Abbiamo spiegato come queste idee si radicano nell'anima delle folle, con quali difficoltà vi penetrino e il potere che hanno quando vi sono penetrate. Abbiamo anche dimostrato che le grandi perturbazioni storiche derivano, il più delle volte, dal mutamento subito da queste idee fondamentali. Avendo già trattato sufficientemente questo argomento, non mi dilungherò ancora e mi limiterò a dire qualche parola delle idee accessibili alle folle e sotto quale forma quest'ultime le concepiscono. Si possono dividere in due classi. In una metteremo le idee accidentali e passeggere, nate sotto l'influenza momentanea, il fanatismo per un individuo o una dottrina, per esempio. Nell'altra metteremo le idee fondamentali che, dato il modo che si ricevono, le eredità sono molto stabili, come le idee religiose un tempo e le idee democratiche e sociali oggi. Le idee fondamentali potrebbero essere rappresentate dalla massa delle acque di un fiume che svolge lentamente il suo corso. Le idee passeggere dalle piccole onde, sempre mutevoli, che agitano la sua superficie e che, sebbene non abbiano una reale importanza, sono più visibili del cammino stesso del fiume. Ai giorni nostri, le grandi idee fondamentali in cui hanno vissuto i nostri padri sembrano sempre più vacillanti e le istituzioni che si appoggiano ad esse si sono trovate profondamente scosse. Presentemente si formano molte di quelle piccole idee transitorie di cui ho parlato ora, ma fra queste sembra che ben poche possano acquistare un'influenza preponderante. Qualunque siano le idee suggerite alle folle, esse non possono diventare dominanti che ha la condizione di rivestire una forma semplicissima e di essere rappresentate nel loro spirito sotto l'aspetto di un'immagine. Siccome queste idee e immagini non sono unite da nessun legame logico d'analogia o di successione, possono sostituirsi una all'altra come le lastre della lanterna magica che l'operatore leva dalla scatola dove stavano sovrapposte. Dunque, si può vedere nelle folle una successione di idee disparatissime. Secondo i casi, la folla sarà posta sotto l'influenza di una delle diverse idee immagazzinate nella sua mente e di conseguenza commetterà gli atti più dissimili. La completa assenza di spirito critico non le permette di vederne la contraddizione. Questo, d'altronde, non è un fenomeno che si nota soltanto nelle folle. Si può constatarlo in molti individui isolati, non solo fra gli esseri primitivi, ma in tutti quelli che per una tendenza dello spirito, i seguaci di una fede religiosa, ad esempio, si avvicinano ai primitivi. Io l'ho osservato, ad esempio, in alcuni Hindu colti che avevano frequentato università europee e avevano ottenuto tutti i diplomi. Sul loro fondo immutabile di idee religiose, sociali, ereditarie, si era sovrapposto, senza alterarle, uno strato di idee occidentali che non avevano nulla di comune con le prime. Secondo i casi, figuravano le une o le altre e lo stesso individuo cadeva nelle più tangibili contraddizioni. Contraddizioni più apparenti che reali, poiché soltanto le idee ereditarie nell'individuo isolato hanno il potere di diventare una regola di condotta quando per degli incroci l'uomo è spinto da impulsi di eredità diverse e le sue azioni possono essere da un momento all'altro completamente contrastanti. È inutile insistere qui su questi fenomeni, benché la loro importanza psicologica sia capitale. Credo che ci vogliano almeno dieci anni di viaggi e di osservazioni per arrivare a comprenderli. Le idee, non essendo accessibili alle folle, che dopo aver rivestito una forma assai semplice devono, per diventare popolari, subire spesso le più complete trasformazioni. Quando si tratta di idee filosofiche o scientifiche un po' elevate, si può constatare la profondità delle modificazioni che sono loro necessarie per discendere di mano in mano al livello delle folle. Queste modificazioni dipendono soprattutto dalla razza alla quale le folle appartengono, ma esse sono sempre avvilenti e semplicistiche. In tal modo non esiste affatto in realtà, dal punto di vista sociale, una gerarchia delle idee, vale a dire di idee più o meno levate. Per il solo fatto che un'idea perviene alle folle e può commuoverle, essa è spogliata di tutto ciò che costituiva la sua grandezza e la sua altezza. Il valore gerarchico di un'idea è, del resto, senza importanza. Bisogna soltanto considerare gli effetti che essa produce. Le idee cristiane del Medioevo, le idee democratiche del secolo scorso, le idee sociali d'oggi, non sono certamente elevatissime. Filosoficamente, si può considerarle come ben poveri errori. Tuttavia, la loro funzione è stata e sarà immensa e a lungo conteranno fra i più essenziali fattori della condotta degli stati. Anche quando l'idea ha subito delle modificazioni che la rendono accessibile alle folle, non opera che momento in cui, per diversi processi che saranno studiati altrove, essa penetra nell'incosciente e diventa un sentimento. Questa trasformazione è generalmente assai lunga nel tempo. Del resto, non è necessario credere che solo quando la giustezza di un'idea è dimostrata, essa possa produrre i suoi effetti, anche tra gli spiriti più colti. E ce ne rendiamo conto vedendo come la più chiara dimostrazione ha scarsa influenza sulla maggioranza degli uomini. L'evidenza lampante potrà essere riconosciuta da un uditorio colto, ma esso sarà sempre ricondotto dalla sua incoscienza alle sue concezioni primitive. Vedetelo un po' in capo a qualche giorno e vi servirà di nuovo i suoi antichi argomenti, esattamente negli stessi termini. Ciò accade proprio sotto l'influenza di idee anteriori diventate dei sentimenti. Ora, soltanto quelle idee operano sui moventi profondi dei nostri atti e dei nostri discorsi. Allorché, in seguito a processi diversi, un'idea ha finito per attecchire nell'anima delle folle, essa acquista una potenza irresistibile e svolge tutta una serie di conseguenze. Le idee filosofiche che sfociarono nella rivoluzione francese impiegarono assai tempo per radicarsi nell'anima popolare. e nota la loro irresistibile forza allorché esse vi fecero presa. Lo slancio di tutto un popolo verso la conquista dell'uguaglianza sociale, verso la realizzazione di diritti astratti e di libertà ideali, fece vacillare tutti i troni e sconvolse profondamente tutto il mondo occidentale. Per vent'anni, i popoli si precipitarono gli uni sugli altri e l'Europa conobbe ecca tombi paragonabili a quelle di Genghis Khan e di Tamertanu. Mai era apparso tanto chiaramente quel che può produrre lo scatenarsi di idee capaci di cambiare l'orientamento dei sentimenti. Se assai tempo occorre alle idee per stabilirsi nell'anima delle folle, un tempo non meno considerevole è necessario per uscirne, di modo che le folle sono sempre, dal punto di vista delle idee, in ritardo di parecchie generazioni rispetto ai sapienti e ai filosofi. Tutti gli uomini di Stato sanno oggi quel che di erroneo contengono le idee fondamentali o loro racitate. Ma essendo la loro influenza ancora potentissima, sono costretti a governare seguendo principi alla cui verità essi hanno cessato di credere. 2. I ragionamenti delle folle Si può dire in modo assoluto che le folle non sono influenzabili con ragionamenti, ma gli argomenti che esse impiegano e quelli che agiscono su di esse appariscono dal punto di vista logico e di un ordine talmente inferiore che solo per via di analogia si può qualificarli come ragionamenti. I ragionamenti inferiori delle folle sono come i ragionamenti elevati basati su associazioni. Ma le idee associate delle folle non hanno tra di loro che legami apparenti di rassomiglianza e di successione. e si legano nello stesso modo di quelle di un eschimese il quale sapendo per esperienza che il ghiaccio corpo trasparente si fonde in bocca ne conclude che il vetro corpo ugualmente trasparente deve anch'esso fondersi in bocca o di quelle di un selvaggio il quale immagina che mangiando il cuore di un nemico coraggioso egli acquista il suo coraggio o ancora di quelle dell'operaio che sfruttato da un padrone ne conclude che tutti i padroni sono sfruttatori. Associazioni di cose dissimili non avendo tra di esse che rapporti apparenti e generalizzazione immediata di casi particolari tali sono i caratteri della logica collettiva gli oratori che sanno maneggiare le folle presentano sempre loro associazioni di questo genere che sole possono influenzarle una serie di ragionamenti stringati sarebbe totalmente incomprensibile alle folle e perciò è permesso dire che esse non ragionano o fanno ragionamenti falsi e non sono influenzabili con un ragionamento la leggerezza di certi discorsi che hanno esercitato un'influenza enorme sugli uditori talvolta stupisce la lettura ma si dimentica che essi furono fatti per trascinare delle collettività e non per essere letti da filosofi l'oratore in intima comunione con la folla sa evocare le immagini che la seducono se egli riesce il suo scopo è stato raggiunto e un volume di arringhe non vale le poche frasi che sono riuscite a sedurre gli animi che bisognava convincere inutile aggiungere che l'importanza delle folle a ragionare giustamente le priva di ogni spirito critico vale a dire dell'attitudine di discernere la verità dall'errore e a formulare un giudizio preciso i giudizi che essi accettano non sono che quelli imposti e mai quelli discussi sotto questo punto di vista numerosi sono gli individui che non si elevano sopra le folle la facilità con la quale certe opinioni diventano generali deriva specialmente dalla impossibilità della gran parte degli uomini di formarsi un'opinione particolare basata sui propri ragionamenti 3 l'immaginazione delle folle l'immaginazione delle folle come quella di tutti gli esseri in cui non interviene il ragionamento è suscettibile di profonde impressioni le immagini evocate nel loro spirito da un personaggio un fatto o un incidente hanno quasi la vivezza delle cose reali le folle sono un po' come un dormiente in cui la ragione è momentaneamente annullata e vede sorgere nel suo spirito delle immagini di un'intensità estrema ma che si dissipano subito appena vengono a contatto con la riflessione le folle essendo incapaci di riflettere di ragionare non conoscono l'inverosimile ora le cose più inverosimili sono generalmente quelle che colpiscono di più per questo le folle sono impressionate maggiormente da ciò che c'è di meraviglioso e di leggendario negli avvenimenti il meraviglioso e leggendario sono in realtà i veri sostegni delle civiltà nella storia l'apparenza ha sempre avuto più importanza della realtà l'irreale predomina sul reale per questo le folle sono impressionate maggiormente da ciò che c'è di meraviglioso e di leggendario negli avvenimenti il meraviglioso e il leggendario sono in realtà i veri sostegni delle civiltà nella storia l'apparenza ha sempre avuto più importanza della realtà l'irreale predomina sul reale le folle non potendo pensare che per immagini non si lasciano impressionare che dalle immagini soltanto questi ultimi le spaventano o le entusiasmano e regolano i loro atti questa è la ragione per cui le rappresentazioni teatrali che danno l'immagine sotto la forma più precisa hanno sempre un'enorme influenza sulle folle pane e spettacoli costituivano un tempo per la plebe romana l'ideale di felicità durante il succedersi dell'età questo ideale ha subito poche variazioni non c'è nulla che colpisca l'immaginazione popolare come una rappresentazione teatrale tutta la sala prova nello stesso momento le stesse emozioni e quest'ultime non si trasformano subito in azioni soltanto perché anche lo spettatore più incosciente non può ignorare ed essere vittima di illusioni ed aver riso o pianto per avventure immaginarie tuttavia qualche volta i sentimenti suggeriti dalle immagini sono abbastanza forti da tendere con le suggestioni solite a trasformarsi in azioni si è spesso raccontato di quel teatro popolare drammatico costretto a far proteggere all'uscita l'attore che rappresentava il traditore per sottrarlo alle violenze degli spettatori indignati dei suoi delitti immaginari io credo che sia qui uno dei più notevoli indizi dello stato mentale delle folle e soprattutto della facilità con cui si suggestionano ai loro occhi l'irreale ha quasi la stessa importanza della realtà le folle hanno un'evidente tendenza a non differenziarli la potenza dei conquistatori e la forza degli stati è fondata sull'immaginazione popolare tutti i grandi fatti storici la creazione del buddismo del cristianesimo dell'islamismo la riforma la rivoluzione e ai nostri tempi la minacciosa invasione del socialismo sono le conseguenze dirette e lontane di forti impressioni prodotte sull'immaginazione delle folle tutti i grandi uomini di stato di tutte le età e di tutti i paesi compresi i despoti più assoluti hanno considerato l'immaginazione popolare come il sostegno della loro potenza non hanno mai cercato di governare contrariandola facendomi cattolico diceva Napoleone al consiglio di stato ho terminato la guerra della Vandea facendomi musulmano mi sono insediato in Egitto facendomi oltre a montano conquistati preti in Italia se avessi governato un popolo di giudei avrei ristabilito il tempio di Salomone mai forse dopo Alessandro e Cesare un altro uomo ha meglio compreso come l'immaginazione delle folle deve essere impressionata la sua costante preoccupazione fu di colpirla cercava di farlo nelle vittorie nelle arringhe nei discorsi in tutti i suoi atti nel suo letto di morte vi pensava ancora in che modo impressionare l'immaginazione delle folle lo vedremo subito diciamo fin d'ora che dimostrazioni destinate a influire sull'intelligenza e la ragione non potrebbero raggiungere questo scopo Antonio non aveva bisogno di una retorica dotta per sollevare il popolo contro gli assassini di Cesare gli lesse il suo testamento e gli mostrò il suo cadavere tutto ciò che colpisce l'immaginazione delle folle si presenta sotto forma di un'immagine impressionante e precisa libera da ogni interpretazione accessoria o non avente per compagno che qualche fatto meraviglioso una grande vittoria un grande miracolo un grave delitto una grande speranza l'importante è di presentare le cose in blocco e senza mai indicarne la genesi cento piccoli delitti o cento piccoli incidenti non colpiranno mai l'immaginazione delle folle mentre un solo delitto notevole una sola catastrofe le colpiranno profondamente e con dei risultati infinitamente meno omicidiali dei cento piccoli accidenti riuniti la grande epidemia di influenza che uccise a Parigi 5.000 persone in poche settimane colpì poco l'immaginazione popolare infatti quella vera ecatombe non si esprimeva con immagini visibili ma soltanto con le indicazioni hebdomandarie delle statistiche un incidente in cui fossero perite invece delle 5.000 persone soltanto 500 lo stesso giorno su una pubblica piazza per mezzo di un fatto visibile la caduta della torre Eiffel ad esempio avrebbe prodotto sull'immaginazione un'impressione immensa ora le statistiche ufficiali indicano che in un solo anno sono andati perduti un migliaio di bastimenti di questi incidenti successivi molto più importanti per perdite di uomini e di mercanzie le folle non si preoccuparono neanche per un momento dunque non sono i fatti in sé che colpiscono l'immaginazione popolare bensì il modo come si presentano questi fatti devono condensarsi se possono esprimersi così in modo da produrre un'immagine impressionante che occupi e opprima lo spirito conoscere conoscere l'arte di impressionare l'immaginazione delle folle vuol dire conoscere l'arte di governarle capitolo quarto forme religiose che tutte le convinzioni delle folle rivestono abbiamo visto che le folle non ragionano che accettano o rifiutano le idee in blocco non ammettono né discussioni né contraddizioni che le suggestioni che agiscono su di esse invadono completamente il campo del loro intelletto e tendono a trasformarsi subito in azioni abbiamo dimostrato che le folle suggestionate sono pronte a sacrificarsi per l'ideale che è stato suggerito loro abbiamo visto inoltre che le folle conoscono soltanto i sentimenti violenti ed estremi in loro la simpatia diventa presso adorazione e l'antipatia appena nata si trasforma in odio questi sono gli indizi che permettono di presentire il carattere delle loro convinzioni esaminando da vicino le convinzioni delle folle tanto nei movimenti religiosi quanto nei sollevamenti politici come quelli dell'ultimo secolo si può constatare che queste convinzioni presentano sempre una forma speciale che non possono determinarsi meglio di così dando loro il nome di sentimento religioso questo sentimento ha delle caratteristiche semplicissime adorazione di un essere ritenuto superiore timore del potere che gli si attribuisce sottomissione cieca ai suoi comandi impossibilità di discutere di discutere i suoi dogmi desiderio di divulgarli tendenza a considerare come nemici tutti quelli che rifiutano di accettarli che un tale sentimento sia rivolto a un dio invisibile a un idolo di pietra ad un eroe o a un'idea politica resta sempre essenzialmente religioso il soprannaturale e il miracoloso vi si riscontrano sempre le folle rivestono dello stesso potere misterioso la formula politica o il capo vittorioso che le affascina momentaneamente non sia religiosi soltanto quando si adora una divinità ma anche quando si mettono tutte le risorse del proprio spirito tutte le sottomissioni della volontà tutti gli ardori del fanatismo al servizio di una causa o di un uomo diventato lo scopo e la guida dei sentimenti e degli atti l'intolleranza e il fanatismo accompagnano di solito il sentimento religioso sono inevitabili in coloro che credono possedere il segreto della felicità terrestre o eterna questi due sentimenti si riscontrano in tutti gli uomini riuniti in gruppo quando si sollevano per una qualsiasi convinzione i giacopini del terrore erano sostanzialmente religiosi come i cattolici dell'inquisizione e i cattolici e il loro crudele ardore aveva la stessa sorgente le convinzioni delle folle hanno quei caratteri di sottomissione cieca di intolleranza feroce di bisogno di propaganda violenta inerenti al sentimento religioso si può quindi dire che tutte le loro credenze hanno una forma religiosa l'eroe acclamato dalla folla è per essa un vero dio napoleone lo fu per 15 anni e non vi fu mai divinità che potesse contare adoratori così entusiasti nessuno mai mandò così facilmente gli uomini alla morte le idee del paganesimo e del cristianesimo non esercitarono mai un impero così completo sulle anime i fondatori delle credenze religiose o politiche le hanno fondate sapendo imporre alle folle quei sentimenti di fanatismo religioso che all'uomo fanno trovare la felicità nell'adorazione e lo spingono a sacrificare la sua vita per l'idolo ce ne sono stati sempre in ogni tempo nel suo libro sulla gallia romana Fussel de Cullanges fa giustamente notare che l'impero romano non si mantenne con la forza bensì con l'ammirazione religiosa che ispirava resterà senza esempio nella storia del mondo egli dice con ragione che un regime detestato dal popolo sia durato cinque secoli non si spiegherebbe come nelle trenta legioni dell'impero avessero potuto costringere cento milioni di uomini a obbedire essi obbedivano perché l'imperatore personificando la grandezza romana era unanimemente adorato come una divinità anche nelle più piccole borgate dell'impero l'imperatore aveva degli altari in quei tempi si vide nascere da un capo all'altro dell'impero una religione nuova che ebbe per divinità gli imperatori stessi qualche anno prima dell'era cristiana la gallia intera rappresentata da 60 città innalzò un tempio ad augusto vicino alla città di lione i suoi sacerdoti eletti dalle città galliche di comune a corto erano i personaggi più importanti del loro paese è impossibile attribuire tutto questo al timore alla servilità popoli interi non possono essere servili e non lo sono per ben tre secoli non erano i cortigiani che adoravano il principe era tutta Roma e non era Roma soltanto era tutta la gallia la spagna la grecia e l'asia oggi la maggior parte dei conquistatori d'anime non hanno più altari ma hanno statue o immagini e il culto che si ha per loro non è molto diverso da quello di un tempo non si può comprendere un po' la filosofia della storia se prima non si è ben capito questo punto fondamentale della psicologia delle folle per esse bisogna essere dei o nulla non sono queste superstizioni d'altri tempi annullate definitivamente dalla ragione il sentimento nella lotta eterna per la ragione non è mai stato vinto le folle non vogliono sentire le parole divinità e religione che le hanno dominate così a lungo ma in nessun tempo hanno innalzato tante statue come da un secolo in qua il movimento popolare conosciuto sotto il nome di bullangismo dimostrò con quanta falicilità gli istinti religiosi delle folle siano pronti a rinascere non c'è albergo di paese che non possegga il ritratto dell'eroe gli si attribuiva il potere di rimediare a tutte le ingiustizie a tutti i mali e migliaia di uomini avrebbero dato la vita per lui che posto avrebbe conquistato nella storia se il suo carattere avesse potuto sostenere la leggenda è inutile banalità ripetere che alle folle è necessaria una religione le credenze politiche divine e sociali si radicano nelle folle soltanto quando rivestono forma religiosa che le mette al sicuro da ogni discussione l'ateismo se fosse possibile farlo accettare alle folle avrebbe tutto l'ardore intollerante di un sentimento religioso e nelle sue forme esteriori diventerebbe presto un culto l'evoluzione della piccola setta positiva ce ne fornì una prova curiosa rassomiglia a quel nichilista di cui il profondo Dostoievski ci narra la storia un giorno illuminato dalla voce della ragione strappò le immagini della divinità e dei santi che adornavano l'altare della sua piccola cappella spense i ceri e senza perder tempo si istituì le immagini distrutte con le opere di filosofi atei e poi riaccese devotamente i ceri l'oggetto della sua fede religiosa era cambiato ma si può ugualmente dire che erano cambiati i suoi sentimenti religiosi non si possono ben capire lo ripeto certi avvenimenti storici e precisamente i più importanti se non ci si è reso conto della forma religiosa che sempre rivestono le opinioni delle folle molti fenomeni sociali dovrebbero essere studiati da un psicologo invece che da un naturalista il grande storico Taine ha esaminato la rivoluzione soltanto da naturalista di modo che la genesi degli avvenimenti spesso gli è sfuggita egli ha osservato con esettezza i fatti ma non conoscendo bene la psicologia delle folle il celebre scrittore non ha sempre saputo risalire alle cause essendo rimasto spaventato dal lato sanguinario anarchico e feroce dei fatti non ha visto negli eroi della grande epopea che un'onda di selvaggi epilettici abbandonati senza ritegno ai loro istinti le violenze della rivoluzione i suoi massacri il suo bisogno di propaganda le sue dichiarazioni di guerra a tutti i re si spiegano soltanto se si considera che la rivoluzione fu l'insediamento di una nuova credenza religiosa nelle anime delle folle la riforma la notte di San Bartolomeo le guerre di religione l'inquisizione il terrore sono fenomeni di identico ordine nati sotto la suggestione di quei sentimenti religiosi che conducono necessariamente a estirpare col farro e col fuoco tutto quello che si oppone al propagarsi della nuova fede i metodi dell'inquisizione e del terrore sono quelli adoperati dai veri convinti non sarebbero convinti se ne avessero adoperati altri gli sconvolgimenti simili a quelli che ho citato sono possibili soltanto quando l'anima delle folle li provoca i più prepotenti despoti sarebbero incapaci di scatenarli gli storici quali dicono che la notte di San Bartolomeo è opera di un re non conoscono la psicologia delle folle e neanche quella dei re simili manifestazioni non possono uscire che dall'anima popolare il potere più assoluto del più dispotico monarca non può che ritardarne o avvicinarne il momento i re non hanno affatto non hanno fatto la notte di San Bartolomeo né le guerre di religione e né Robespierre né Danton né San Gios fecero il terrore dietro a simili avvenimenti c'è sempre l'anima delle folle grazie per l'ascolto e alla prossima grazie per l'anima